buonasera a tutti questo video vuole essere una guida semplice per installare s drive è molto semplice dovrete andare sulla sulla pagina sul link che mando sempre via email quindi o via whatsapp il sito è business.cell-wellbank.com mettere l'email con la quale vi siete registrati nell'account la password se non avete la password ho dimenticato la password cliccate su forgot password e lui vi dirà di ripetere la vostra email e vi manterrà sulla vostra email una comunicazione per set per risettare la password quindi cliccherete sull'email che vi arriva set new password mettete una password semplice e poi riandate su questo link mettete la vostra email la password e entrate nella nella la pagina questo è il vostro dashboard avete avrete qui quindi tutte le vostre informazioni compreso i vostri pagamenti dove troverete le vostre fatture l'account qui nome cognome potete correggere controllare e poi qui sopra tutte le informazioni compreso come poter ordinare poi prossimamente eventuali altri test report per il bambino per lo sportivo adesso avete quelli per il sistema immunitario invece in questo caso con help support potete scaricare il software per il programma a cui collegare s drive andate su nuova installazione guida oppure download del software con nuova installazione molto semplice seguite gli step vedete step 1 non dovete avere niente collegato l s drive si collega solo a fine installazione del software mi raccomando quindi next vi mandare avanti ho aggiornato il mio windows ricordate di avere windows 10 step 3 confermo che non ho collegato niente il mio windows è aggiornato step 4 step 5 ho disabilitato l'antivirus se volete disabilitarlo meglio altrimenti lui ve lo installa comunque next step 6 qui vi fermate vedete step 6 non ho il cd cliccate qui non ho il cd non andate più avanti fermatevi allo step 6 cliccando su download l'ultima installazione lui vi scarica il programma quando avrà finito di scaricare il programma lo troverete su i programmi e scaricati download oppure lo vedete qui come login verde scaricato cliccate sull'eseguibile due volte e lancerete l'auto installazione l'auto installazione vi chiederà solo di rispondere ok si autorizzo l'installazione e poi seguite next ok next ok finché vi dirà il programma è stato installato correttamente lasciate che lui faccia tutto in automatico vi dirà vi si apparirà poi un loghino verde s drive sul desktop che potete cliccare due volte e lanciare il programma software di solito chiede anche se vuoi aggiornare il programma voi dite sempre sì ogni volta che ve lo chiede il programma deve essere sempre aggiornato come deve essere sempre aggiornato il vostro windows una volta che avete lanciato il programma collegate s drive quindi cosa accade quando collegate il programma che vi troverete con la vostra pagina software così collegate less drive vi chiederà di inserire la vostra email come us rd user is di la vostra email e come password quella che io vi mando per attivare il vostro s drive è molto semplice se avete bisogno sono a vostra disposizione buon proseguimento buon lavoro ma soprattutto eh benvenuti nella rivoluzione epigenetica della tecnologia s drive server bank ciao a tutti